ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi voglio farvi vedere alcuni prodotti che la fulcro non mi ha inviato che utilizzerò per la pulizia dell'automobile e nel caso specifico per la pulizia dei cerchi dell'auto come vedete ci sono diversi prodotti ad esempio il super sgrassatore base solvente lo possiamo utilizzare per pulire ad esempio gli attrezzi da grasso morchie eccetera in tutti quei contesti in cui non ci sono plastiche gomme quello che utilizzeremo oggi sarà il super sgrassatore concentrato che è uno sgrassatore molto molto aggressivo utilizziamo anche dei guanti stiamo un po attenti perché è molto molto efficace poi c'è lo stesso sgrassatore ma è un pronto all'uso quindi è già diluito quindi meno aggressivo detergente igienizzante abbiamo il gel per igienizzare le mani e anche una pasta lavamani veramente veramente efficace in descrizione troverete i link ai prodotti quindi dategli un'occhiata e cominciamo subito a lavorare col nostro super sgrassatore concentrato cominciamo a spruzzare direttamente sul cerchio il nostro sgrassatore lo lasciamo agire vediamo già che comincia a sciogliere perché già qui si è schiarito poi lo andiamo a togliere con un panno in microfibra o un panno qualsiasi guardate subito come viene via tutta la morchia dei freni che comunque è uno sporco molto molto aggressivo e pesante e lo scioglie praticamente subito utilizzate i guanti mi raccomando io posso utilizzare questo super sgrassatore quando vado a lavar la macchina vado a lavar la macchina prima di lasciare la macchina ad esempio sotto le spazzole o comunque prima di fare il lavaggio con la lancia posso fruttare il prodotto lo lascio stare lì un minuto o due e poi posso passare la lancia a dare la schiuma eccetera eccetera e poi passare via il risultato sarà identico e io ho dato semplicemente due passate ci ho messo due minuti a farlo questo lavoro qua ci sono ovviamente dei prodotti specifici il problema quale è che io con un prodotto specifico faccio una sola cosa con questo qui posso pulire l'interno del cofano il motore qualsiasi parte dove ci sono delle morchie abbastanza pesanti utilizzo vi ricordo dei guanti il risultato è buono molto buono sono tantissimi altri prodotti della fulcron che utilizzo molto spesso ad esempio questo super sgrassatore base solvente quindi per pulire ad esempio gli attrezzi una volta che le abbiamo utilizzate con degli attrezzi sono un po sporchi da una passata si passa con uno stacetto essendo a base sul vento ovviamente non stare attenti alle gomme le plastiche ma si utilizza praticamente su metalli ma la cosa interessante è che il prodotto è adatto all'utilizzo in ambito alimentare ragazzi spero che il video sia stato utile io vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un commento un like in descrizione trovate tutte le informazioni e i link riguardanti questo tipo di prodotti lasciate un like condividete il video seguitemi su tik tok su instagram su facebook mi raccomando metto un sacco di video anche lì noi ci vediamo alla prossima ciao